Zero gioco, zero idee e zero punti. Ravezzano esce sconfitto dal match da dentro fuori contro il Campobasso e dice quasi addio al sogno della salvezza diretta. Campobasso che conquista la matematica permanenza in Serie D al termine di una partita priva di spettacolo che sorrida ai molisani, bravi a capitalizzare la prima e unica vera occasione da gol. Con la vittore lega Manali in panchina e disegna un 4-3-1-2 con Dosa a supporto di Bruni e Padovani. Bagatti si schiera a specchio con Giacobbe di Romusetti e l'ex Jonathan Alessandro. Per vedere la prima occasione si deve arrivare fino al quindicesimo, Musetti prova la sorpresa dalla tre quarti. Conclusione, fuori bersaglio, alla mezz'ora si vede l'Avezzano, Padovani fa sportellate sulla fascia, diagonale che si spegne sul fondo. Cinque minuti dopo cambia la storia della partita, piazzato col contaggiri di Grazioso per la testa di Pierantozzi che stacca più in alto di tutti e trova la respinta della traversa sul ribattamento di fronte percussione letale di Musetti che serve Alessandro per l'1-0 Molisano, quattordicesimo gol in campionato per l'Italo-Argentino, ma azione viziata da un probabile fuorigioco del nove rosso-blu. Al quarantesimo provano a reagire i marzicani, Kras serve Grazioso che si gira in aria ma spedisce in out. Sui titoli di coda della prima frazione tornano in avanti gli ospiti. Lo Bello raccoglie una respinta della difesa, tiro di prima intenzione alto sopra lo specchio. Nella ripresa non cambia il canovaccio tattico del match. Avezzano ancora spento che fatica a manovrare con qualità. Con la vittura allora si gioca la carta Manali per uno spento Bruni. Nel buio totale arriva uno spiraio di luce per i biancoverdi. Calzola, Gianmonito, stende De Roccis e rimedia il secondo giallo della sua partita. Il signor Porchedo è irremovibile e sventola il cartellino rosso. Campo basso in dieci e partita da reinventare. L'Avezzano però sembra non approfittare della superiorità numerica e fatica ancora a creare occasioni. Al 26esimo Padovani fa da torre per De Roccis che si coordina, ma trova la respinta della difesa. Al 36esimo ancora Padovani in evidenza, suggerimento per l'undici biancoverde, ma Sposito è attento e legge bene l'azione. Al 39esimo contropiede quasi letale dei molisani. Da un'azione insistita di Giacobbe e Cogliati la palla arriva sui piedi di Di Lauri che sciupa e cestina il match ball. 60 secondi più tardi lampo del neontrato Fulvi, conclusione da fuori che Sposito non trattiene. Padovani si avventa ma trova la respinta di un difensore. Al 43esimo altra azione pungente del campo basso. Cogliati lotta con Besana, Valtilo verso la porta, palla in curva, finisce 1-0 dopo un assalto disperato dell'Avezzano. Biancoverdi ora lontanissimi dalla salvezza di Letta, in virtù del successo interno del Giulianova contro il Montegiorgio. Playout che sembrano più di un'ipotesi. Campobasso salvo dopo un digiuno esterno che durava dallo scorso 20 gennaio. Mister, una partita bloccata, poi in un minuto è successo di tutto. Prima la traversa di Pierantozzi e poi il gol del Campobasso che ha comportato questa sconfitta pesante. Hai detto bene, una sconfitta pesante. Purtroppo gli appelli non ci sono. Purtroppo il famoso episodio che non ti va a favore. Una palla rilanciata a centrocampo. Ho perso a centrocampo e dalla mia telecamera comunque è un metro di fuorigioco. Dopo 17 fuorigiochi da parte loro purtroppo il collaboratore dell'arbitro ha sbagliato il diciottesimo. Questo è il calcio. Quindi complimenti al Campobasso che va a casa e con il minimo sforzo prende i tre punti. Da un punto di vista dell'atteggiamento si aspettava qualcosa in più o i suoi ragazzi hanno dato il meglio? No, ma io i ragazzi, come ripeto, stanno dando tutto. Tutte le energie che hanno le stanno spendendo per questo finale di campionata. Il problema è che viene enfatizzato tutto perché comunque mancano poche partite e quindi il risultato pesa. Adesso la situazione soprattutto nella zona play-out si è complicata. Adesso c'è il ritorno anche dell'Agnonese. Come se ne esce da questa situazione facendo gruppo? Se ne esce, se ne esce. Adesso i ragazzi devono pensare a passare una serena Pasqua. Ecco, quindi poi quando è martedì ci rimetteremo a lavorare e preparare questa trasferta di Vasco. Ci tenevamo, noi siamo arrivati a dicembre, eravamo ultimi in classifica e ora siamo già salvi a due giornate dalla fine matematicamente. Quindi io posso solo ringraziare questi ragazzi che hanno fatto secondo me qualcosa di straordinario. Che avevano fatto un percorso all'inizio che era forse anche al di sopra delle nostre possibilità. Poi abbiamo avuto un calo, anche qualche partita un po' sfortunata. Perché io dico la partita di domenica, io non parlo mai di sfortuna, ma prendere i gol che abbiamo preso noi, nemmeno in Champions League si vedono. Quindi magari potremmo avere qualche punto in più. Però posso solo veramente ringraziare questi ragazzi che secondo me sono un gruppo eccezionale che ogni volta che si sono trovati nella difficoltà si hanno sempre saputo rialzare la testa.